Ciao a tutti da Parafranze, benvenuti! Ecco i miei recuperi dell'estate 2017. Iniziamo con una fantastica borraccia austro-ungarica a fondo piatto. La parte superiore si è dissaldata, quindi purtroppo non sono riuscito a ritrovarla. Vediamo la smaltatura esterna in verde scuro e quella interna, se mettesse a fuoco, ecco, bianca. Tutti questi reperti sono stati trovati a vista, quindi niente metal detector, soltanto vista e tante camminate. Passiamo da uno e due caricatori per il carcano italiano, abbastanza schiacciati, ma non si butta via niente perché è storia. Due caricatori invece, questo qua vabbè, in pessime condizioni. E' uno in condizioni molto buone, un po' da ripulire, per il Gewer 88 tedesco. Abbiamo due proiettili carichi, tra virgolette, perché ormai li ho già disattivati in un video precedente, per l'M95 austro-ungarico. Qua abbiamo altri due bossoli scarichi. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Oggi le condizioni di luce sono abbastanza sfavorevoli. Ecco qua. Proseguiamo con una fibbia probabilmente austro-ungarica, perché il ritrovamento è avvenuto in un posto di prima linea austro-ungarica. Poi magari si tratta di un italiano, di una successiva conquista. Un bottone in legno italiano. Purtroppo devo tenerlo chiuso così perché veramente si sbriciola. Infatti l'avevo trovato integro, poi il tempo di portarlo giù si è diviso a metà. Scusate il contenitore rudimentale. Questi due oggetti, questo presumo sia una spoletta di qualche bomba, ma se qualcuno ha qualche informazione mi commenti nel video. Questo invece non ho proprio idea di cosa sia e se soprattutto sia del conflitto. Ma dato lo stato di alterazione, presumo di sì. Commentate se avete delle informazioni. Fosseguiamo con quattro ogive del carcano italiano, che probabilmente hanno impattato la neve. Perché dalla rigatura sull'ogiva vediamo che è stata sparata. Perché ha preso la rigatura del fucile. Eccole qua tutte insieme. Scusate i cerotti, ma sono appena tornato da una ferrata e ho scordato i guantini. E qua invece abbiamo sempre lo stesso tipo di ogiva, ma che ha impattato un sasso probabilmente. Per concludere abbiamo qualche gerapnel. E questo che sembrerebbe la stessa cosa, ma in verità è di diametro maggiore, è un pallino per colpi a mitraglia austro-ungarici. Per questo video è tutto da Parafrance. Ci vediamo alla prossima. Vi ricordo di mettere mi piace e se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi. E se vi va di seguirmi anche su Facebook trovate i link nella descrizione del video. A presto e grazie.